Centro Torretta White, il centro turistico alberghiero dove oltre alla clientela del luogo gravitano uomini d'affari per riunioni congressuali, oltre a turisti italiani e stranieri. Molto spesso scelto anche per coronare il giorno delle nozze con particolari e personalizzati banchetti. Il centro offre alla clientela il Calamidoro Hotel, un particolare country hotel quattro stelle strutturato come un tipico borgo toscano, a cui fanno da cornice un laghetto, un campo pratica golf, una piscina privé, un magnifico parco. Dependance ristrutturate, il tutto ad esaltare la splendida villa padronale di fine Settecento. Sobrio ed accogliente, elegante ed armonioso, con colori caldi che esaltano i manufatti tipici di questa regione, come il ferro battuto, l'utilizzo del legno e del cotto toscano, il Calamidoro Hotel racchiude per architettura, colori e accoglienza la classicità della terra toscana. Ubicato a soli 20 minuti da Pisa, a 30 da Lucca, a 50 da Firenze, da Volterra e dalla Versilia e dalla stessa Vinci, il Calamidoro Hotel, nel centro Torretta White, offre con il suo borgo antico un'ambientazione ideale, raccolta ed immersa nel verde per i vostri soggiorni. L'antica villa ha al piano terra la reception, l'American Bar e i salottini per la colazione. I giardini attorno, ideali per la pausa caffè o per dedicarvi alla lettura, le camere, nella varia tipologia, dalla Superior alla Deluxe alla Suite, si trovano nella villa, come pure nelle quattro Dependance attorno ad essa. La camera Deluxe si presenta su due piani, al piano terra il bagno, il soggiorno con divano, sul soppalco il letto matrimoniale o twinne per due adulti. La suite invece ha il soggiorno e la camera da letto sullo stesso piano. Disponiamo di una suite imperiale, con angolo cottura, soggiorno, una camera con letto alla francese, una con il letto a baldacchino. Ad introdurci a questo borgo antico è il Corpo Centrale, il primo edificio che incontrate arrivando, dove vi sono le camere standard, il ristorante, la pizzeria, la churrascheria, l'enoteca, il caffè. Il gusto ed i sapori tipici di questa regione si assaporano da ben 30 anni, nel nostro ristorante Calandrino, che già dal nome ha una parte di storia. La sala con la particolare griglia avvolta da caldi disegni che ne rendono armoniosa l'atmosfera, la saletta prevede per incontri di lavoro. In questo contesto anche il leisure trova il suo spazio, un impianto di piscine, campi da calcetto, centro relax e benessere Nausicaa. negozi per lo shopping, mentre per la vita notturna ci sono l'esclusivo piano bar bodega di famiglia, la churrascheria, The Viper, il lounge bar Campo dei Fiori ed altri locali della discoteca Boccaccio Club. Grazie a tutti.